una lezione dedicata ad un personaggio italiano o in questo caso un attore italiano e parliamo di roberto benigni un famoso attore che ha vinto un oscar negli anni negli anni 90 famoso ancora oggi però in questo caso vado a raccontarvi la sua storia di vita la sua vita i suoi successi e questo c'è da dire che da ricordarsi che è un attore della regione toscana quindi è legato ad una regione come facciamo sempre e in questo caso è della toscana allora vi leggerò la storia di di vita di roberto benigni e ci sarà talvolta come vedete in grassetto qualche 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 termine qualche sostantivo aggettivo verbo in grassetto appunto vi spiegherò il significato allora roberto benigni roberto benigni nasce a castiglione fiorentino in provincia di arezzo toscana il 27 ottobre 1952 i suoi genitori sono entrambi contadini fin da piccolo roberto dimostra di avere un carattere allegro espansivo ed esuberante esuberante vuol dire che è un sinonimo diciamo di espansivo e significa che esubera quindi va al di fuori delle regole normali di quello che è la normalità quindi il suo carattere è un pochino più o molto dipende eccentrico rispetto alla normalità del carattere delle persone inizia a studiare in un seminario di firenze seminario sostanzialmente solitamente sono le scuole per per preti quindi per ordinarsi e farsi prete non è detto che però alle volte affiancati ai seminari ci siano degli istituti che però sono degli istituti normali di licei nei seminari ma direi che quando si parla di seminario molto spesso e quasi spesso si parla di ordinamento quindi di religione ordinamento e una scuola per preti ok inizia a studiare in un seminario di firenze ma lo abbandona dopo l'alluvione che colpisce la città nel 1966 prosegue gli studi all'istituto tecnico diplomandosi in ragioneria la sua vera passione però è lo spettacolo dopo alcune esibizioni come cantante e musicista nel 1971 benigni debutta in teatro nello spettacolo il re nudo in seguito prende parte ad altri spettacoli a roma come attore e regista quindi sono i primi anni in cui fa diciamo i primi debutti nel teatro nello spettacolo nel 1975 lo sceneggiatore giuseppe bertolucci scrive per lui un monologo cioni mario di gaspare fu giulia con questa interpretazione benigni ottiene un enorme successo e porta lo spettacolo in tournée in tutta italia lo sceneggiatore è quella persona che si occupa di scrivere la sceneggiatura e cioè i dialoghi sostanzialmente ma anche la la recita proprio teatrale o di un film quindi scrive quella che è la stesura della delle parti parlate o recitate all'interno di una di una di un film o di una di un spettacolo teatrale il monologo è un discorso da soli quindi vuol dire che giuseppe bertolucci ha scritto questo questa sceneggiatura dove sostanzialmente roberto benigni era nello spettacolo nel teatro a parlare da solo al pubblico dall'inizio alla fine quindi non c'erano altri attori che intervenivano nel nello spettacolo ma lui faceva tutto da questo spettacolo nel 1977 viene anche tratto un film berlinguer ti voglio bene di cui benigni è protagonista il film pur riscontrando alcune resistenze da parte della critica contribuisce ad aumentare la notorietà dell'attore le resistenze sono diciamo dei dubbi della critica può essere considerato un un sostituto diciamo una un similare un termine similare quindi vuol dire che c'erano alcune parti della critica che resistevano quindi che avevano dei dubbi in proposito del film della buona riuscita del film o della 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 la qualità della stessa cinematografica del del film stesso però nonostante questo ha il film ha contribuito ad aumentare la sua notorietà cioè quindi la sua fama essere famoso essere noto è il termine per descrivere la notorietà fin dall'inizio della sua carriera roberto benigni si afferma come personaggio schietto ribelle incontenibile e irriverente schietto vuol dire che è molto semplice e diretto ribelle vuol dire che si ribella a quelli che sono i canoni normali di recita o di rapporto anche con gli altri incontenibile vuol dire che non si contiene significa che non non si ferma di fronte a niente oppure quello che deve dire lo dice di fronte a tutti quindi è un po sinonimo di ribelle di schietto poi in sostanza e irriverente significa che non si che non fa riverenze a nessuno quindi non si inchina nessuno ma dice quello che pensa l'attore continua ad esibirsi nei teatri e nelle piazze italiane nel 1983 nasce lo spettacolo tutto benigni che raccoglie il meglio delle sue esibizioni in pubblico nel 1978 benigni si fa conoscere ed apprezzare dal pubblico televisivo partecipando alla trasmissione di renzo arbore l'altra domenica e porta all'attenzione della critica quindi dei critici l'abbiamo già visto prima critica anche se non era stato sottolineato una nuova forma di comicità che da molti sarà giudicata addirittura rivoluzionaria nel 1984 inizia il successo cinematografico di benigni il film commedia non ci resta che piangere di cui roberto è regista e attore insieme all'indimenticato massimo troisi magari sarà soggetto di un'altra di un altro personaggio più avanti troisi perché ovviamente è stato un personaggio napoletano in questo caso molto famoso per nel suo periodo un attore molto famoso comico e campione di incassi della stagione il film non ci resta che piangere ovviamente il successo sul grande schermo prosegue negli anni 80 e 90 con una serie di film che riscuotono l'entusiasmo del pubblico e che accrescono la popolarità dell'attore il piccolo diavolo 1988 johnny stecchino 1990 il mostro 1994 fino al celeberrimo quindi molto famoso la vita bella del 1997 che viene premiato con tre oscar miglior film straniero migliore colonna sonora al maestro nicola piovani e miglior attore protagonista a roberto benigni e con numerosi altri riconoscimenti nazionali e internazionali agli inizi degli anni 90 sposa l'attrice nicoletta braschi che diventa la protagonista femminile di tutti i suoi film e che il 1991 fonda insieme a lui la casa di produzione cinematografica melampo l'attività cinematografica di benigni prosegue negli anni 2000 ma l'attore torna anche ad essere protagonista protagonista scusate del piccolo schermo portando in televisione una delle sue passioni letterarie la divina commedia di dante alighieri lo spettacolo tutto dante in cui roberto benigni recita a memoria e commenta i canti del poema dantesco dantesco è un aggettivo legato a dante quindi vuol dire che è il poema di dante dantesco viene proposto non solo in televisione ma anche nei teatri nelle piazze e nelle università e riscuote un enorme successo di pubblico e critica dapprima in italia e poi anche all'estero altrettanto di successo sono i monologhi che benigni dedica alla costituzione italiana all'inno nazionale italiano e ai dieci comandamenti mi soffermo semplicemente sul fatto che beh a parte chi conosce bene l'italiano e che riesce ad ascoltare l'italiano bene gli consiglio di vedere quei due o tre film che sono il piccolo diavolo johnny stecchino e il mostro e ovviamente anche la vita è bella perché sono veramente delle chicche sono veramente dei film eccezionali però sono belli anche i discorsi monologhi perché da poche frasi con poche frasi lui riesce a tenere un discorso per decine e decine di minuti quindi la l'inno nazionale italiano ad esempio sono alcune strofe che non credo di ricordare bene che lui va ad analizzare completamente tutto l'inno ma da queste poche strofe lui ne trae diciamo uno spettacolo completo quindi è per chi mi sta seguendo ovviamente per chi conosce abbastanza bene l'italiano e ne ha voglia di cercare su youtube li troverà sicuramente ascoltatevi questi monologhi perché sono veramente eccezionali per la per la sua bravura per la sua capacità ovviamente anche di ricordarsi a memoria la divina commedia la più recente interpretazione cinematografica di benigni fino ad oggi è quella di per il film to roam with love scritto e diretto da Woody Allen nel 2012 oltre i numerosi riconoscimenti per l'attività cinematografica ottenuti come attore regista e sceneggiatore abbiamo già visto che lo sceneggiatore è quello che scrive le parti non solo l'oscar ma anche ad esempio il david donatello il globo d'oro il nastro d'argento e il bafta benigni ha anche ottenuto innumerevoli lauree honoris causa e cittadinanze onorarie come a cesena firenze e a buenos aires roberto benigni è anche insignito della medaglia ai benemeriti della cultura e dell'arte nel 2005 gli è stata conferita l'onoreficenza di cavaliere di gran croce dell'ordine al merito allora queste sono due delle varie onoreficenze che vengono attribuite solitamente ai personaggi più famosi italiani a quelli che hanno avuto valore sia culturale che storico e quindi lui comunque fa parte di questo gruppo di famosi e noti italiani che hanno ricevuto questo questo tipo di di merito specifico per le sue attività culturali bene credo che questa sia l'ultima l'ultima slide dedicata all'attore benigni spero che vi sia piaciuto ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da dire facciamo sempre delle lezioni mirate precise dei sunti dei sommari dedicati ai personaggi in questo caso il personaggio della della toscana della regione toscana vi chiedo come sempre un like o un seguimi sul canale youtube semplicissimo facebook twitter eccetera eccetera mi potete seguire anche sul blog ita per tutti punto blogspot punto com quando avete domande avete dubbi scrivetemi vedo che molti mi scrivono vi ringrazio tutti ci vediamo presto nelle prossime puntate di italiano per tutti ciao vi ringrazio tutti